Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sul piano cartesiano oggi andremo a vedere la distanza tra due punti qualsiasi appunto nel piano cartesiano. Nella scorsa lezione abbiamo visto come si può trovare la distanza tra due punti nel piano cartesiano che però si trovino allineati o parallelamente all'asse delle x, quindi orizzontalmente, o parallelamente all'asse y, ovvero verticalmente. A questo punto oggi noi generalizzeremo i risultati trovati nella lezione precedente andando a vedere cosa succede se ho due punti qualsiasi nel piano cartesiano. Come nella lezione precedente, penso che il modo migliore per capire quale sia la formula generale da adottare è lavorare con un esempio. E come vedete qui abbiamo due punti, i punti A di coordinate meno 1, 2 e B di coordinate 3 e meno 1. In questo caso questi due punti non hanno in comune né la scissa, cioè la x, né l'ordinata. In questo caso poi i due punti non sono tutti e due nel primo quadrante, anzi nessuno dei due nel primo quadrante, A si trova nel secondo quadrante e B nel quarto. Allora il nostro primo passaggio sarà chiaramente di disegnare questi punti. Come la volta precedente vi consiglio di mettere in pausa il video e provare voi stessi a disegnare punti A e B sul vostro riferimento cartesiano. Ecco, se avete messo i punti correttamente si dovrebbero trovarsi come le vedete qui, no? A di coordinata appunto meno 1, 2 ed eccolo qui nel secondo quadrante e B di coordinate più 3, meno 1, quindi nel quarto quadrante. Come nella volta precedente io mi domando, ok, quanto sarà lungo il segmento A B? Qual è la distanza da questi due punti? E' chiaro che in questo caso non basterà come magari uno ha fatto nella volta precedente contare i quadretti perché chiaramente qui non siamo né nella direzione orizzontale né in quella verticale, quindi come possiamo fare in questo caso? Il modo migliore di procedere chiaramente è capire che questa lunghezza qui, questo segmento qui va a formare una parte di un'altra figura che ormai è diventata molto familiare a noi, cioè un triangolo rettangolo. Il primo passaggio per trovare questa distanza A B è cominciare a capire qual è la distanza tra A B nella direzione orizzontale e per fare questo io disegnerò questo segmento qui fino a qui, quindi allineato col punto B. Ecco, la distanza tra questo punto che chiamerò C, però in realtà è solo un artificio, ci serve solo per capire un attimo il procedere qui in avanti, ci dice quanto ci dobbiamo muovere in orizzontale e come prima, come possiamo procedere? Possiamo procedere usando le formule che abbiamo visto nella lezione precedente, quindi B C è uguale al valore assoluto della coordinata di X, cioè 3, di B scusate, meno la coordinata X di C, cioè meno 1, doppio negativo fa positivo, quindi valore assoluto di 3 più 1 e quindi questo segmento qui è lungo 4 e ora andiamolo a tratteggiare, così lo vediamo meglio. Questo qui io so che è lungo 4. Ora intanto immagino abbiate già notato che la figura che siamo andati a formare è un triangolo rettangolo, in particolare un triangolo rettangolo con l'angolo retto in C, quindi AC e BC sono i due cateti, AB non è altro che l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo, quindi è ovvio che per risolvere il nostro problema alla fine dovremo far ricorso al teorema di Pitagora. Abbiamo trovato, col sistema che si era visto nella lezione precedente, la lunghezza del segmento BC, procediamo alla stessa maniera per trovare la lunghezza del segmento AC che è l'altro cateto. Quindi scrivo AC uguale a valore assoluto della Y di A questa volta perché sono allineati verticalmente, cioè 2 meno la Y di C che è sempre meno 1. procedo come prima, il meno davanti alla parentesi cambia il segno qui, quindi diventa 2 più 1, 2 più 1 fa 3, valore assoluto di 3 è sempre 3. In questo caso per la scelta che ho fatto il valore assoluto era abbastanza inutile, ma tant'è. A questo punto, e scriviamo qui che queste 3, allora a questo punto di nuovo molti di voi avranno riconosciuto i primi elementi della più famosa terna pitagorica, la terna pitagorica 3, 4, 5, quindi già mi aspetto che abbisse lungo 5. Tuttavia, giusto per fare le cosine a modo, svolgerò i miei conti applicando quindi il teorema di Pitagora, la formula diretta, no? Che è radice quadrata del primo cateto, quindi BC, BC alla seconda, più l'altro cateto, quindi AC alla seconda, a questo punto vado a sostituire 4 alla seconda, più 3 alla seconda, e ora chiaramente vado un pochino più veloce nei calcoli perché sapete 4 alla seconda fa 16, 3 alla seconda fa 9, 16 più 9 fa 25, radice quadrata di 25 fa ovviamente 5. Ora è ovvio che abbiamo trovato il nostro risultato, però questa procedura per trovare la lunghezza del segmento AB è eccessivamente lunga, alla fine abbiamo dovuto usare ben tre passaggi, uno per trovare BC, uno per trovare AC e uno infine per trovare AB. ovviamente noi possiamo riassumere questi tre passaggi in un'unica formula e per farlo ripartiamo dalla formula per trovare AB. Allora AB è l'ipotenusa di un triangolo rettangolo, quindi io posso utilizzare la formula diretta del teorema di Pitagora che mi dice che l'ipotenusa di un triangolo rettangolo uguale alla radice quadrata del quadrato del primo cateto. Allora il primo cateto è BC, ma BC l'abbiamo visto e dato dal valore assoluto della differenza delle due ascisse. Ora attenzione, normalmente io dovrei mettere qui il valore assoluto, quindi scrivere il valore assoluto di 3 meno meno 1, no? Ma devo stare attento perché in realtà questo passaggio in questo caso non è più utile. Perché? Perché BC poi verrà elevato alla seconda e vi ricordo che il quadrato di numero positivo è positivo. Il quadrato è un numero negativo, che è un altro che è un numero negativo moltiplicato per se stesso, è a sua volta positivo, quindi a questo punto il ruolo del valore assoluto diventa inutile. Quindi tutto questo lo racchiudo di nuovo tra parentesi e lo metto alla seconda. Poi sommo l'altro cateto e qui di nuovo scriverò, aperta parentesi tonda, 2 meno meno 1, chiusa tonda, tutta la seconda, il tutto sotto un lungo segno di radice, va bene? E questa è un po' la formula che siamo andati a cercare, cioè per trovare la distanza tra due punti qualsiasi cosa devo fare? Andiamo a vedere, 3 che cos'era? È la X di B, meno 1 è la X di C, ma è anche la X di A, quindi in realtà questa è la differenza tra le ascisse del punto B e del punto A. Qui invece che cos'ho? Ho la differenza tra le ordinate, tra le Y, perché 2 è la ordinata di A, e meno 1 era sì la ordinata di C, ma è anche la ordinata di B, quindi è la differenza tra le ordinate di A e B. Siamo finalmente in grado di scrivere la nostra formula generale, quella che si applica in qualsiasi caso, ovvero la distanza tra due punti qualsiasi nel piano cartesiano. E per riassumere quello che abbiamo visto finora, possiamo dire che la distanza tra due punti qualsiasi è uguale alla radice quadrata della somma tra il quadrato e la differenza tra le loro ascisse e il quadrato della differenza tra le loro ordinate. Di nuovo questa è una di quelle formazioni che è più difficile da scrivere che non poi da tradurre in una formula e poi da fare. Questa è la formula che abbiamo nel caso di due punti qualsiasi A e B, di coordinate rispettivamente X di A, Y di A, X di B, Y di B. Infatti cosa abbiamo? Abbiamo che AB è uguale alla radice quadrata della differenza delle ascisse, tutto al quadrato, più la differenza delle ordinate, tutto al quadrato. Io vi lascio anche con un'indicazione che questa formula poi contiene al suo interno la formula che abbiamo visto nel caso particolare tra due punti allineati perché se sono due punti allineati lungo l'asse X, questo termine qui diventa zero e la radice di una radice quadrata, questa è una cosa che probabilmente non avete visto, dà come risultato proprio il valore assoluto. Alla stessa maniera, se ho due punti che sono allineati verticalmente, quindi che hanno la stessa X, questo termine diventa zero e di nuovo la radice quadrata di un quadrato che mi dà il valore assoluto di questa differenza. Nelle prossime lezioni vedremo come applicare queste formule per studiare delle figure nel piano, ma per oggi è tutto. Arrivederci da Mr. Boscherini.